Buongiorno! Allora, stamattina ho comprato da Pescimendolo una bella fetta di pesce spada. Allora, la fetta di pesce spada è questa. Già ne ho tagliata una parte, vedete, e l'ho aperta a libro perché mi serve molto sottile. Adesso taglierò anche queste parti e le aprirò a libro. Ho aperto per bene le fette di pesce spada, vedete, le ho appiattite un poco con il batticarne. Adesso preparerò la farcitura da mettere all'interno. La farcitura sarà composta da mollica di pane, limone, prezzemolo, aglio, sale, pepe, qualche pomodorino e la granella di pistacchi. Ho messo un po' di farcitura sulle fette di pesce spada, vedete? Adesso vado ad arrotolare e fare degli involtini. Ho fatto gli involtini, vedete? Adesso sulla superficie vado a mettere questo un po' di ripieno che mi è rimasto, il pane grattugiato e vado a mettere la granella di pistacchi. Ovviamente olio extravergine d'oliva. E adesso in forno per 15 minuti, 190 gradi. Guardate che belli questi involtini!